Ehi, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui su Brawl Stars per giocare dopo tanto tempo a Basketball In realtà per me non è tanto tempo perchè già ci gioco in questi giorni Da molto tempo l'hanno aggiunto e quindi però non ho mai portato video L'ho portato molti mesi fa e quindi adesso ci ritorniamo Però, raga, l'unico problema che mi aveva molto visto è che devo fare cose E comunque, raga, dopo ho pubblicato questo video non ci sarà la live Anche se è sabato perchè comunque, ve l'ho detto, sono a fare altre cose Comunque qua è bella la doppia Ok Ok, da zero Ok, va bene, sono 81 da 3 Non sta attendendo Anche se non ando Però che non è di trarre E niente, non ho stato in tempo la ultima Mi sa che non entro, raga, perchè stava troppo lontano il canesto Vediamo se i gesti ci riescono Vediamo se i gesti ci riescono Buona, dai questa doppia Buona, dai, questa doppia Dai, 4 a 3, raga io cercherò la prossima volta di fare un video più lungo di basket brawl visto che comunque è stato breve ci porterò più lungo la prossima volta cerco di recuperare quei minuti che non faccio che faccio solitamente e che poi li porterò nei prossimi giorni quindi penso che durante la settimana prossima lo riporterò casomai se devo portare qualcuno a credito accessi vochi e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo domani e un prossimo io bella riga